musica 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 cos'è cosa? DIO! scrivi what is... cos'è pacchino? non so no mi bannano no è il tutto per i pakistani ora ti banno eh boh però io no mi hanno bannato sei inefficiente Giacomo io gli ho scritto vui spachi gli ho scritto vui spachi ragazzi due ore cioè la prossima cos'è? una settimana? dai però che palle potevi dirmi che era una minchiata? che ne sapevo io l'ho cacciato musica vabbè f*** fu fu duas fu 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti